Benvenuti da FTA Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Andiamo a guardare quattro titoli del Fuzzimib particolarmente interessanti che trovate nella newsletter giornaliera nella tabella relativa alla composizione del Fuzzimib secondo FTA. Ovviamente quelli che andiamo a guardare oggi sono nelle prime posizioni in termini di allocazione. Iniziamo con la 2A che ha una intonazione positiva. Vedete il titolo sta rimbalzando. Dopo aver testato con i minimi dello scorso anno, i minimi di inizio 2020, la reazione per adesso è stata capace di ritracciare fino al 61,8% del ribasso precedente. Sapete che questa quota di ritracciamento è estremamente importante. Se ci sarà la rottura di questa area di resistenza, quindi a di sopra di area 1,57%, potremmo aspettarci il prossimamente rialzo fino almeno 1,77-1,80%. C'è una resistenza intermedia intorno a 1,65% dove il 23 di maggio dello scorso anno i prezzi hanno lasciato un gap, ma penso che al superamento di 1,57% ci potrebbe essere tranquillamente la possibilità di salire appunto fino verso almeno 1,75%. Per quello che riguarda Pirelli siamo anche qui in una situazione positiva. Il titolo deve però riuscire a superare questa forte area di resistenza orizzontale a 5,05% per confermare la possibilità di proseguire nel trend rialzista. Vedete, intorno ai 5 euro, infatti c'è il 50% retracement. Con i prezzi che hanno provato a più riprese il superamento di quella quota, c'è stata molta lotta. Vedete molte candele che hanno provato a superare la resistenza. Solo il 6 di marzo ci sono riuscite anche in chiusura di seduta. La chiusura è stata a 5,02%. Ripeto, aspetterei una chiusura sopra 5,05% per sbilanciarmi ulteriormente a rialzo con un obiettivo che potrebbe essere almeno fino in area 5,60%. Attenzione invece a discese al di sotto di questa trend line, perché in caso di violazione di 4,50-4,55% questo movimento, visto nelle ultime settimane, si dimostrerebbe un flag correttivo e quindi ci sarebbe il rischio di una ulteriore evoluzione ribassista con l'obiettivo verso i 4 euro. Per quello che riguarda Stellantis, siamo in presenza di una forte area di resistenza orizzontale. Il massimo del 6 di marzo a 17,80% circa, se ci sarà il superamento di quei livelli, si può puntare tranquillamente al test del massimo di gennaio dello scorso anno a 19,35% che sarà se raggiunta un'area critica. Il fatto che i prezzi siano riusciti ad accelerare al di sopra del lato alto di questo canale è un'indicazione di forza. Vedete qui c'è stata la rottura del canale, poi i prezzi sono entrati dentro e poi adesso sono ritornati nuovamente al di sopra. Quindi c'è la volontà di stabilire un percorso di crescita più veloce rispetto a quello che avevamo visto nei mesi precedenti. Resta però appunto da superare questa forte resistenza di area 17,80%. Al di sopra di quella potrebbe esserci un movimento anche rapido di salita. Sotto invece il minimo di questa candela martello, che si è disegnata il 6 di aprile sotto 16,05%, ci sarebbe un rischio di vedere il test della base del canale. Infine abbiamo Telecom Italia, che sta disegnando una fase laterale ormai da un po' di tempo. I prezzi non sono riusciti con il rialzo che abbiamo visto dai minimi di ottobre a arrivare sul 50% di retracement, che è a 0,3350. Se dovessero superare quella quota ci sarebbe spazio, secondo me, per un'ulteriore fase di crescita. Il rialzo che abbiamo visto dai minimi di ottobre dello scorso anno, infatti, potrebbe essere visto come un movimento in 5 onde e la onda 5 avremo un target intorno a area 0,36. Quindi sopra 0,3280, 0,3290, target fino a 0,36 circa. Se dovesse realizzarsi, invece, una discesa di sotto i 0,30, potremmo temere una fase correttiva in tre segmenti, quindi da questo massimo di marzo potrebbe partire una fase correttiva, cioè potrebbe realizzarsi una fase correttiva in tre segmenti e quindi mancherebbe ancora un segmento ribassista per completarla, e perciò di sotto i 0,30 meglio attendere il termine della correzione prima di valutare un ingresso sul titolo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.